Liberare la pista Campionato italiano cadetti Genes, esecuzione, ultimi due gruppi dello short femminile, categoria Genes in pista Nervegna Nadia, fattinatori Orsa Maggiore Napoli, si prepari Pillon Valentina Campionato italiano cadetti Genes Campionato italiano cadetti Genes Campionato italiano cadetti Genes Campionato italiano cadetti Genes Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.